Tempi duri per il Montevarchi con il Firenzuola persa un'altra occasione, la prossima trasferta di Chiavari non promette nulla di buono. In casa Rossoblu ci si aspetta una spinta dal mercato. Franco Mussis ha una bella responsabilità, ma in che condizioni è? Questa settimana mi sono venuti per allenare. Questa settimana mi sto ambientando bene, mi alleno, sto conoscendo i miei compagni, i progetti della squadra, mi sento molto bene, quindi spero di restituire sul campo la fiducia che mi è stata concessa. Da buon sudamericano deve trasmettere la garra necessaria anche ai compagni per inseguire il sogno della salvezza. Senza dubbio, senza dubbio, dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare e allenarsi e per tutta la partita entrare con la mentalità di vincere per arrivare alla salvezza. Di vincere, tenere sempre questa mentalità, la mentalità ganadora e per noi sono tutte a finale. Il suo inizio è stato poco felice, complice un pessimo rapporto con la direzione arbitrale. Non intendo molto l'italiano, non gli ho detto niente, forse era un po' nervoso. Non parlo solitamente degli arbitri, ma va bene, mi assumo le responsabilità nei confronti dei miei compagni e dell'allenatore. Le ho pedito disculpa anche ai miei compagni, all'entrenatore, perché non mi può passare, perché un giocatore con esperienza non ti può passare. E domenica, con la Virtus Entella, sarà necessaria una maggiore attenzione. Non importa chi avremo davanti, sappiamo che la squadra è molto forte, noi però dobbiamo fare i punti senza nessun timore. Dobbiamo ganare, necessitiamo ganare, per il gruppo necessitiamo, quindi andiamo a buscare i tre punti.